Buonasera, buonasera signore, grazie per offerta signore, grazie, siamo come tutti gli altri italiani, non abbiamo i soldi, siamo senza soldi, giorni ma ce l'hai? No, la macchina sì ma la soldi no, non ti sembra che questi siano l'espressione del popolo italiano? Senza testa, ecco il pio, col cappello ma senza testa, bravi, ciao, ciao, ciao Se l'abbiamo aprendo tutti io, vedetevi da che cosa? Dal torpore! Grazie.